Ciao ragazzi, ciao da Nickyab e tornati qua su Fallout 4 Allora raga, prima di partire ho due punti da spendere E ho pensato, miglioriamo i danni che fanno con la pistola Così magari ammazziamo prima qualcuno E poi gli steam pack che ne consumiamo ogni volta tanti E quindi teoricamente in questo modo dovrei riuscire a sprecarne magari qualcuno in meno Poi sto coso qua A mare, che ne so Sto coso qua Se non mi sbaglio Non serve forse proprio niente perché non si può neanche riparare Oramai per entrare nell'istituto non mi pare che sto coso non serve più Quindi lo si può riciclare Non pare che non serve per niente Ok Quindi sono rimasti tutte sti cose di corrente Che le potremmo anche spegnere Ok, così risparmiamo Beh, più che altro perché Se non mi sbaglio c'è il rischio che il villaggio qui viene attaccato in base Mi pare che era in base all'acqua e al cibo Però chi lo sa magari in base anche alla corrente Quindi spegniamo Ok Allora il padre ci vuole vedere E quindi vediamo un po' dove Rovine del cheat Andiamo alle rovine del cheat Ragazzi vediamo un po' cosa vuole sto padre da noi Che poi alla fine sarebbe nostro figlio Ok Allora il padre Il padre a dove sta Ah qua dentro Ok rotonda del cheat ragazzi Ok Vediamo un po' chi c'è Cosa Ci sta anche il sintetico Inventario Armi in vista Pistola di caldo Dobbiamo andare su Dabbi Dobbiamo andare su Da là Ok, super mutante andato Vallo fuori, bravo Perfetto, ragazzi Fatto Eh ma non è di qualche domanda Oh mio dio Osho 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 L'hai? L'hai ammazzato compà? Sì ma però non è di qua Dov'è? 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 È dietro o qua dietro Quindi non è di qua Scendiamo un po' Che ho visto che c'era qui un'altra stradina Ok C'è un cavolo Padre È proprio qua dove venire a farti A farti sta chiacchierata Quello che è Dobbiamo parlare proprio qua Non potevamo parlare nel solito posto Tranquillo Dentro l'istituto Che ti ci porta a te fuori dall'istituto? Allora Eccolo qua Vediamo un po' che vuole Raga Sei In tutta la mia vita Non ho mai messo piede fuori dall'istituto Non una sola volta Da quando mi hanno portato qui Non ho mai avuto motivo di farlo Ora però Questo non Cosa? Questo? Oh Sean Sei In tutta la mia vita Non ho mai messo piede fuori dall'istituto Sì Sì Non una sola volta Da quando mi hanno portato qui Sì Non ho mai avuto motivo di farlo Ora però Questo non fa che confermare la verità che ho sempre saputo Il Commonwealth È morto Non c'è futuro qui L'unica speranza per l'umanità È nel sottosuolo Tipo le talpe Un tempo era diverso Non c'è stato così Un tempo era diverso Posso solo immaginarlo Essere qui mi ricorda Quanto sono stato fortunato Nello sfuggire a una vita in questa desolazione So che dal tuo punto di vista Sono stato rapito da quel Volt La realtà però È che l'istituto mi ha salvato Ci ha salvato entrambi A dire il vero Eeeh Ma io Ma Perché congelarmi? Come misura di sicurezza Ovviamente Io ero il candidato perfetto Un bambino dal DNA incorrotto Ma se qualcosa fosse andato storto Se fossi morto L'istituto ha deciso Che era meglio avere un piano di emergenza Un'altra sorgente di DNA pre-guerra Preferibilmente legata al soggetto primario Era logico che fossero i miei genitori A ricoprire quel ruolo Così ti hanno mantenuto in vita E al sicuro Dentro il Volt Devo ammettere che quando ti ho fatto rilasciare dal Volt 111 Non mi aspettavo che tu riuscissi a sopravvivere qui E invece mi hai persino trovato E hai saputo infiltrarti all'interno dell'istituto stesso Straordinario Così sei stato tu Tu mi hai fatto uscire Sì È stata una mia decisione Non era più necessario mantenerti in animazione sospesa E io Beh io volevo vedere che cosa sarebbe accaduto Una specie di esperimento Eh facciamo io esperimento come va Non avevo idea di quale genere di persona tu fossi Il Commonwealth avrebbe corrotto anche te? Come corrompe ogni altra cosa? Avresti saputo restare in vita? E poi forse la cosa che mi incuriosiva di più Dopo tutto questo tempo mi avresti cercato Ora conosco la risposta Ne valeva la pena? Beh Ora sono qui Dimmi Ne valeva la pena? Credo di sì Dopo il tuo successo a Banker Hill Ci saranno sviluppi molto interessanti I sintetici sono tornati integri E saranno riconfigurati Grazie per ciò che hai fatto Spero che tu non abbia posto rischi eccessivi Ne valeva la pena? Che ne so Ci sono sempre dei rischi Ma ne valeva la pena Sono felice che tu la pensi in questo modo I Railroad rimangono una spina nel fianco naturalmente Ma ci occuperemo di loro in base alle necessità Per quanto riguarda te Beh come si dice Hai superato la prova Ben fatto Grazie Tieni Questo è un segno tangibile della mia riconoscenza Anzi Della nostra riconoscenza E ora che tu giochi un ruolo maggiore nel futuro dell'istituto Vorrei che mi raggiungessi all'interno C'è un incontro del direttorato al quale dovresti prendere parte Ti aspetterò là Ho visto abbastanza E' ora di rientrare Ok Ah piano Parla col padre vai Dopo sta chiacchierata di 5 minuti Andiamo a farci un'altra chiacchierata di altri 5 minuti immagino Quindi andiamo dentro all'istituto Vediamo un po' che dobbiamo parlare con i capi qua dell'istituto Vediamo un po' che cosa ne esce Ok Dobbiamo andare sopra A parlare con babbo Oh ma che mi si è un po' rotto il lad qui sotto Si è un po' buggato Oh ma dove è che devo andare sopra? Padre Concludiamo questa riunione del direttorato Prima di continuare a parlare E' piuttosto importante Va bene ti seguo Se hai bisogno di manutenzione Inoltre una richiesta alla divisione strutture E che revisione mi vuoi fare? Ma E questo lo chiami pavimento pulito I tuoi recettori visili hanno qualche problema Non vedi lo sporco e la polvere Concludiamo questa riunione del direttorato Prima di continuare a parlare E' piuttosto importante Non inventare scuse Hai chiaramente un problema E intendo segnalarlo Forse dopo che ti avranno smontato Potremmo usare i tuoi componenti Per creare qualcosa di utile Bene Ci siamo Ok ci siamo Possiamo cominciare Andiamo a segnare qua Chiedo scusa ma Posso conoscere il perché della sua presenza? Arriveremo anche a questo Ma prima ci sono altri argomenti Che richiedono la nostra attenzione I disordini nel Commonwealth Sono in costante aumento Come sappiamo tutti Il suo rapporto? Tutte le strutture dell'istituto Permangono assolutamente sicure Con una sola eccezione significativa A parte questo Internamente la sicurezza è perfetta Come sempre Il dottoraio ha monitorato la situazione in superficie Sì Le vedette non segnalano minacce particolari Oltre a quelle precedentemente identificate Stiamo ancora monitorando le intense attività Attorno a Fort Independence Ma non ci sono segnali che siano fonte di preoccupazione immediata L'aeroporto internazionale di Boston rimane occupato E in diversi altri punti del Commonwealth È segnalata la presenza della confraternita Le informazioni indicano che questi railroad sono ancora operativi E anzi tendono a diventare più ambiziosi Gli agenti del reparto URS controllano tutte le situazioni note Molto bene, grazie È chiaro che la sicurezza deve essere la nostra preoccupazione principale A questo proposito A che punto è la fase 3? Ecco Siamo sicuri che questo sia il momento adatto per discuterne? E intendo dire Considerati tutti i presenti? Ah sì Hai sentito parlare della fase 3? No Non mi sembra Va bene Non mi aspettavo una risposta diversa Si tratta di un progetto segreto fin del suo concepimento Come avrai avuto occasione di vedere in superficie L'energia è un bene estremamente prezioso Si tratta di qualcosa che va oltre l'astratto concetto di potere È un bene tangibile E grazie all'energia che le luci rimangono accese Ma va Con ogni nuova scoperta dell'istituto Il nostro fabbisogno energetico aumenta Nel corso degli anni abbiamo compiuto molti sacrifici E raggiunto molti compromessi Per non arrestare il progresso Che genere di compromessi? A volte siamo stati costretti a ricavare energia Da installazioni situate in superficie Mettendo rischio personale e attrezzature Ora non più però La fase 3 molto semplicemente È l'attivazione di un reattore nucleare In grado di fornire all'istituto Tutta l'energia di cui ha bisogno Ora e per sempre Non assicurerà solo la nostra sopravvivenza Ma anche la nostra prosperità Disastro Energia nucleare Non ci vorrà molto prima che accada una catastrofe Non sotto il nostro controllo Questa è la risposta Te lo assicuro Questo è il futuro Il reattore è quasi pronto Ma gli ultimi test hanno evidenziato Che ci sono ancora dei particolari da sistemare E così arriviamo alla fase 3 E a come tu potrai essere d'aiuto Come? Proprio così Dottor Aio In precedenza facevamo affidamento su Kellogg Per le operazioni in superficie Giusto? Beh Ora non è più possibile Anche se non mi piace molto L'idea di esporre a gravi rischi Una persona a cui tengo Ha già dimostrato di sapersela cavare Sì ma Questa decisione non è oggetto di discussione Ora C'è un altro argomento di cui dobbiamo parlare Non so se questo sia il momento adatto Dottor Oldren Lo è Per favore Come di sicuro molti di voi già sanno È ormai da tempo che mi sottopongo alle cure del dottor Volkert Mi spiace ma per me è difficile I nostri sforzi non hanno avuto esito positivo Tutti i trattamenti sperimentali che abbiamo tentato sono falliti Mi... Mi spiace dover annunciare che sto morendo Dimmi che stai scherzando Calmatevi tutti Mi dispiace Non avrei voluto annunciarlo in questo modo Ma il tempo a disposizione sta per finire Quindi praticamente tra 200 anni ancora non hanno trovato la cura per salvarsi Da... Aspetta dai che? Stai morendo Stai morendo Temo di sì Una forma di cancro particolarmente È te pareo Credimi quando ti dico che abbiamo tentato tutto il possibile Parleremo più a fondo in seguito In questo momento è in gioco il futuro dell'istituto L'istituto non può sopravvivere senza una guida Il direttorato deve continuare a governarlo Ponendosi come obiettivo il miglior interesse comune Per questo intendo nominare mio padre come mio successore Oh, Dio Non puoi dire sul serio Ma scherzi Una pessima scelta Come puoi giustificare una cosa del genere? Non fa parte di noi, non è neppure uno scienziato Ma figurati Quindi praticamente ricapitolando Mio figlio sta morendo di cancro E io devo pigliare il suo post E' apposta Benissimo Che vi devo dire ragazzi Non mi sento tanto dispiaciuto Perché comunque non l'ho conosciuto più di tanto Ecco però Alla fine effettivamente Se è buggato l'ad lì sotto Si vede che è buggato Sono davvero fiero di quello che siamo riusciti a fare Quindi insomma adesso devo fare la parte di quello dispiaciuto Non mi avevo idea So che tutto questo è Beh difficile da accettare Tutto in un sol colpo Mi dispiace padre Spero di non avere commesso un errore Assegnandoti il comando Senza neppure parlartene prima Che devo fare? Cosa comporterebbe il mio nuovo ruolo? Molte divisioni dell'istituto sono quasi autonome Perfettamente capaci di funzionare senza interventi esterni Quando le divisioni interagiscono fra loro però Possono presentarsi dei problemi Tu guideresti il direttorato nel definire le norme Nel risolvere le dispute E in altre situazioni simili Sicuramente una parte del direttorato Come pure dell'intero istituto Avrà bisogno di essere rassicurata in merito alla tua nomina Ecco perché vorrei che ti occupassi di quest'ultima operazione La dottoressa Fillmore ti fornirà i particolari Ci attendono decisioni difficili Per tutti noi Ma in particolare per te Io però so Che farei la cosa giusta Ok Umanità ridefinita raga Mamma mia raga Stiamo per perdere il nostro figlio L'UAD si è sbaggato No si è ribaggato Quindi ok Mass Fusion Praticamente la missione attuale consiste A parte Quindi praticamente ragazzi La missione attuale è quella di Andare in questa centrale nucleare Non so a far cosa E poi Il figlio insomma sta crepando di cancro E dobbiamo Prendere il suo posto addirittura Nessuna reazione visibile Al composto K14 Incredibile Iniziamo al prossimo test Dunque Questa volta il dosaggio sarà Andiamo a parlare con sta dottoressa Fillmore Vediamo un po' cosa devo fare in modo particolare Sinceramente non lo so Immagino tu debba scudere Oh ma tu cacchio è Ora non muoverti Ah di qua Ma che dormono eh Ah sì che tanto qua non si capisce se Giorno o notte Ecco fatto Ellie Ellie Sveglia Fazzà E qua c'è il tuo prossimo capo Fazzà Alzati Spero di essere Namo Sono di licenzio Ti mando in superficie a zappare la terra Giornata pesante eh Eh Sesta per diventare ancora più pesante A quanto pare sarei tu a guidare quest'operazione Ma guarda un po' che caso Ok Esatto Bene Vediamo i particolari Gli ultimi eventi hanno scombinato i nostri piani Ora la priorità è attivare il reattore Dovrà essere in funzione entro Beh Ieri Dovremmo prendere qualche scorciatoia La cosa non mi entusiasma Anche perché dovremmo fare affidamento su alcune tecnologie prebelliche Dovrai raggiungere la mass fusion E recuperare l'agitatore al beriglio per conto nostro Che cacchio è Agitatore? Che cos'è un agitatore al beriglio? Fornirti dettagli sarebbe fatica sprecata Senza offesa Il punto è che ci permetterà di incrementare la potenza del reattore E di attivarlo prima del previsto Tu pensa a proteggermi Io penserò all'agitatore Ah Ma ha detto praticamente Sei un ignorante È inutile che te lo spiego Ok Va bene Ehm È davvero necessario che vieni tu? È davvero necessario Penso proprio di riuscire a fare tutto da me Sì È necessario Quella tecnologia non è solo delicata È anche antica Senti Ci penserò io Tu dovrai solo farmi tornare indietro sana e salva Va bene Per me va bene Mi piace la compagnia Non quanto piace a me tornare indietro sana e salva Non amo andare in superficie Lo faccio solo quando non ci sono alternative Purtroppo al momento Le opzioni a nostra disposizione scarseggiano Non per farti ulteriori pressioni Ma dobbiamo muoverci velocemente Si dice che la confraternita stia ficcando il naso nei paraggi Non vogliamo che trovino l'agitatore prima di noi Raggiunge il teletrasporto Ci vedremo là Ok cara Però stavolta C'è la confraternita che ci vado con l'armatura che abbiamo sbloccato E che non c'ho proprio voglia Di andare contro alla confraternita Un'altra volta che loro sono super corrazzati E Nick arriva lì e si trova come sempre in difficoltà Quindi sai che ti dico Dov'è? Mappa Andiamo prima a Sentuary Mi prendo l'armatura Atomica E devo vedere anche che armi ciò Perché non è che c'ho voglia di andare contro sti tizi Con la pistolina Però ha sempre il coso rotante là Se non c'hai munizioni che te ne fai Quanto sei brutto Oh ma che è? Ehi Ciao Prima di guardare l'armatura Guardiamo che armi abbiamo qui dentro E ci vorrebbe Eccolo qua Oh le munizioni ce le ho Ok pigliamo lui Fatman non serve che tanto non c'ho le munizioni Lancia i missili non c'ho le munizioni Bene Questa è una Però ragazzi Ci andiamo chiaramente nel prossimo gameplay Perché con tutta la chiacchierata che si è fatta il padre in questo gameplay Il tempo praticamente è volato via E quindi non riusciamo a fare granché Al massimo riusciamo ad entrare dentro Non andiamo all'istituto E sarei a massimo pronto per partire Non c'è molto da fare Quindi direi proprio ragazzi Che ci si becca Nel prossimo gameplay E andiamo un po' a vedere sta situazione Con la centrale nucleare Ma per il momento Ci si ferma qui Quindi ragazzi Io spero come sempre Che questo gameplay vi sia piaciuto Più che altro alla fine si tratta della storia In questo gameplay Non più Non tanto altro Però vabbè comunque ovviamente La storia la vogliamo conoscere E quindi ci stava anche Anche questa lunga chiacchierata Vabbè quindi ragazzi Ci becchiamo nel prossimo gameplay Con magari meno storie E più azione Si spera Quindi commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Ciao